Ho provato durante tutti questi mesi a allargare il più possibile la coalizione, sono riuscito fino a un certo punto, non completamente come avrei voluto. Oggi è chiaro che partiamo per andare a vincere il primo turno, ma se questo non dovesse essere colto il primo turno, noi continueremo il barlottaggio con la stessa formazione con cui abbiamo fatto il primo turno. Credo che comunque sia una ipotesi che almeno a seguito degli sondaggi non ci tocca, ma quello che intendo io è partire con una squadra che ci permetta di fare bella Chieti. E allora ho cercato di coinvolgere le persone che qualitativamente possono arricchire questo progetto. E oggi con orgoglio, con emozione e con gioia che annuncio l'adesione al mio progetto di Adele Campanelli. Penso che a Chieti il nome sia ultraconosciuto, ma per chi non lo sapesse, anche da fuori, è stata con lei che ha diretto, anzi che si è inventata, tutto il fenomeno della civitella, dallo stellario al museo archeologico, tutto quello per cui ancora oggi viene ricordato. Poi è andata via, è andato a ricoprire incarichi sempre più importanti, oggi è tornata a Chieti. Tutti sanno che io punto sul rilancio del turismo culturale a Chieti. Con questo elemento ho ancora più certezze che questo obiettivo potrà essere colto. Lei per tanti anni è stata la direttrice della civitella di Chieti, la cultura di questa città al primo posto per il rilancio stesso di Chieti. Io l'avevo detto nel 2000 che era questa la strada da fare, credo che sia ancora questa la strada da fare. Allora erano prematuri i tempi, il Ministero non era così disponibile a raggiungere accordi con gli enti locali. Io fui la prima a fare un accordo con gli enti locali per costruire un museo e da allora in poi il Ministero ne ha fatti tantissimi. Adesso politicamente le condizioni ci sono per condividere la gestione del patrimonio e per fare del patrimonio veramente un volano per l'economia locale.